Quali sono le novità per i prossimi mesi? Sicuramente non si fermerà la nostra voglia di innovare, la nostra voglia di scoprire settori nuovi, la nostra voglia di risolvere i problemi ai clienti che finora non hanno trovato una risoluzione al loro programma e alle esigenze legate alla creazione e alla disponibilità di spazi funzionali. Sicuramente andremo avanti con la nostra ricerca di macchinari, di soluzioni più conformi e più vicine a quelle che ora sono problematiche e non riusciamo a risolvere. Sicuramente non sottovaluteremo l'importanza della formazione del personale perché noi vogliamo che ogni persona, dalla contabilità alla logistica, dall'amministrazione alle vendite sia in grado di comprendere e di spiegare un terzo, qualunque esso sia, le caratteristiche delle nostre società e dei nostri prodotti e sicuramente continueremo a credere nei marchi, nelle aziende, nei marchi di Boxstock Solutions perché siamo certi al 100% che il nostro servizio è un servizio impeccabile e lo rimarrà anche nel corso del tempo.